Emanuele Rigo, New Trader Lab, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Andrà, grazie dell'invito. Allora, vorrei partire con un commento all'apertura di Wall Street, ovviamente questa è un'apertura post-Powell. È tutto logico quando vediamo come apre Wall Street e soprattutto come si muovono i rendimenti? La domanda è tutto logico, direi di no, però in realtà ci sta assolutamente. Nel senso che Powell ha confermato le stime di crescita, anzi addirittura ha rivisto a rialzo le stime di crescita dal 4,2 al 6,5. Ha rivisto a rialzo anche l'indice inflattivo al 2,4 il personal consumer expenditure rispetto al 2,8 della rilevazione precedente e ha detto in buona sostanza che sì ci sono i segnali di ripresa, sì c'è una pressione inflazionistica che è anche abbastanza evidente. Oggi i dati sul Philadelphia Fed, l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia ha fatto rivistare un 51,8, quindi un ritorno anche in maniera abbastanza marcata sopra l'area espansiva dal livello di 23 dove l'avevamo lasciato nella rilevazione precedente, quella del mese di febbraio e dove era atteso soprattutto, quindi uno scenario economico favorevole, una disponibilità evidente della Federal Reserve a lasciar correre l'inflazione, infatti Powell in buona sostanza ha trovato più o meno la quadratura del cerchio del suo problema che era quello di un'economia tutto sommato in recupero e rischi inflattivi che poi sono dati anche dall'aumento dei tassi, dicendo in buona sostanza che la Federal Reserve si rende conto della situazione, è disponibile a lasciar correre un pochettino l'inflazione, quindi a rimanere indietro rispetto all'evoluzione dell'outlook macroeconomico, piuttosto che soffocare la ripresa con un aumento dei tassi. Aumento dei tassi che è previsto secondo il dot plot, quindi lo schema delle intenzioni di voto dei membri votanti dell'FOMC, della Federal Open Market Committee, che è il braccio armato della Federal Reserve che si occupa delle operazioni a mercato aperto, vedono un rialzo dei tassi addirittura nel 2022 e un rialzo più consistente nel 2023 dove si pensa che il tasso di interesse di riferimento possa ritornare addirittura verso l'1%, per cui una situazione in cui in buona sostanza Powell è riuscito a non fare un disastro, nonostante avesse un, diciamo, pressioni notevoli sul fronte dei tassi e anche sul fronte dei mercati, per il momento la situazione è tutto sommato sotto controllo. Quello che sta succedendo sui mercati, e lo vediamo in maniera abbastanza precisa, è che i mercati sono ancora consapevoli che ci sarà liquidità, ma stanno rotando. E si vede dalla performance oggi del Nasdaq, meno 1,27 in apertura, dell'S&P meno 0,52, ma il Dow che rimane in positivo. Questo perché? Perché i tecnologici e quindi i grandi vincitori dell'anno della pandemia stanno venendo, così come anche Tesla, come hai ricordato poco fa, stanno venendo, diciamo, scaricati in favore di altri titoli, come quelli che sono stati i Big Loser, che saranno probabilmente i vincitori della fase successiva, quindi i bancari, i financials, gli energetici, eccetera. E lo vediamo anche dalle performance negli Stati Uniti, è molto evidente dalla composizione degli indici. In Europa, tutto sommato, siamo in una situazione di stabilità, perché la BCE non ha, diciamo, problemi analoghi a quelli della Fed, cioè la ripresa è molto più debole. Allora, andiamo a vedere velocemente anche il calendario macroeconomico, perché oggi abbiamo visto dati leggermente sopra le attese, richieste di disoccupazione continua a 4.124.000, il dato previsto era per 4.070.000, che è ben sotto, ovviamente, il dato attuale, richieste iniziali di sussili di disoccupazione a 770.000, invece il dato previsto era per 700.000, quindi anche qua uno dato leggermente sopra le stime, che non è un indicatore purtroppo positivo. Poi il mercato del lavoro rimane la priorità principale per la Fed. Ti sembra esagerato questa politica dei tassi fino alla fine del 2023, visto che Powell ieri ha aggiornato in rialzo le stime del Pilcom, hai detto tu, le stime anche della disoccupazione, del tasso della disoccupazione, e insomma ha proiettato un outlook piuttosto positivo, quindi non ti sembra esagerato tenere i tassi tra lo 0 e 0.25 fino al 2023? È probabile che ci sarà un rialzo dei tassi già a partire dal prossimo anno, potremmo vederlo anche prima onestamente, però diciamo che Powell adesso ha un doppio, diciamo al di là del doppio mandato della Fed, ma ha un doppio problema, che è quello che i mercati si rendono conto della situazione sottostante, e lui deve giustificare l'accomodamento monetario che la Fed continua a mettere in campo. E lo giustifica dicendo, è quello che ha detto tutto sommato ieri, che la Fed non vuole soffocare la ripresa, nonostante i segnali siano piuttosto incontrovertibili, quindi sia abbastanza difficile andare a fare questo tipo di ragionamento, per cui l'unica cosa che rimaneva a Powell da fare era puntare l'attenzione sui dati attuali, quindi quelli effettivamente registrati dalle case di rilevazione e non quelli prospettici, e quindi non andare a fare un salto nel buio andando a rialzare i tassi per seguire il mercato che li vede in rialzo, quando in realtà la situazione non è così, potrebbe non essere così rosea. Per cui per il momento la situazione è tutto sommato sotto controllo, ma dal punto di vista prettamente macroeconomico e quindi monetario, tendenzialmente si potrebbe già cominciare a parlare di un rialzo dei tassi, cosa che però spaventerebbe molto i mercati. Per cui da qui questo atteggiamento wait and see, in cui la Fed sta facendo registrare il fatto che è al corrente della situazione, quindi uno scenario macroeconomico positivo, in miglioramento, ma che per il momento non ha intenzione di ritornare sui suoi passi fino a probabilmente l'anno prossimo. Ecco, invece andiamo a vedere anche tutto ciò che ha deciso Bank of England, evidentemente in scia della decisione della Fed, non cambia una virgola, ovviamente i tassi di interesse allo 0,1% e non solo, si continua con il quanto dei rifiasing ad un ritmo di 895 miliardi di sterline, uno sguardo velocissimo alla reazione della sterlina, molto sensibile a questo tipo di notizie, in leggerissimo calo dello 0,4%, è normale tutto ciò che sta facendo la Bank of England o meno? Qual è la tua valutazione? Guarda la Bank of England, onestamente, ha sicuramente più motivazioni di Powell di fare questo tipo di discorsi. Tra Brexit e situazione economica non particolarmente positiva nel Regno Unito, le prospettive non sono così rose, proprio perché da un lato c'è la pandemia, dall'altro c'è la Brexit e molto probabilmente sono due situazioni epocali che si stanno abbattendo sul Regno Unito che impongono la prudenza. Che poi Bailey sia abbastanza allineato alle idee di Powell, quindi su una linea un po' più, chiamiamola trampiana in questo modo di dire, quindi molto più a seconda del mercato, questo è piuttosto evidente, non a caso, insomma è stata la scelta di Boris Johnson alla guida della Bank of England, diciamo succedendo a Mark Carney che invece aveva sempre avuto un atteggiamento un po' più cauto. Però rispetto alla Fed vedo il comportamento della Bank of England molto più allineato a quello che è lo stato sottostante dell'economia britannica. Volevo chiederti, guardando ai rendimenti, siamo al decenale americano ad 1,74 che è davvero incredibile, non ovviamente per il numero che stiamo vedendo, ma piuttosto per il lasso di tempo così breve in cui ha raggiunto questo numero dallo 0,708 ad 1,74 e davvero a poco tempo. A tuo avviso Powell avrebbe dovuto dire qualcosa in più quando le hanno fatto naturalmente la domanda per quanto concerne i rendimenti dei Treasuries o è andata comunque bene così perché lui si è dichiarato poco preoccupato in quanto tuttora l'inflazione è ben sotto il target della Fed? Che abbia fatto bene o fatto male onestamente non te lo so dire. Powell ha fatto un ragionamento di quello di cui parlavamo prima che ha un senso dal suo punto di vista e che ha un senso anche per quanto riguarda i mercati in questo momento cioè non deve creare situazioni di forte instabilità sui mercati in generale né su quello dei titoli di Stato né su quello azionario e ha detto attenzione signori noi l'inflazione sappiamo bene che l'anno prossimo potrebbe salire anche oltre il nostro target che è il 2% ma molto probabilmente tornerà a scendere tra cui invece di diciamo andare ad arginare un problema che ancora non ha fatto sentire i suoi effetti stiamo a vedere che cosa succede l'andamento sui titoli di Stato diciamo che da un punto di vista prettamente tecnico è una progressione che quando i mercati hanno cominciato a rendersi conto che la situazione stava migliorando e anche sui vaccini stava andando meglio diciamo delle attese forse erano un po' più pessimisti di quello che volevano far registrare ecco che l'andamento è stato abbastanza importante abbiamo visto circa dall'1% per il decennale americano all'1,70 dove sta ora non è detto che non stormi un pochettino questo diciamo il rendimento e ritorni su dei livelli un po' più bassi però da questo punto di vista Powell dice che per il momento la cosa non lo preoccupa sono sicuro che la cosa magari non lo preoccupa ma la tiene monitorata assolutamente ecco invece la Garda ha detto in audizione al Parlamento europeo che le prospettive dell'Eurozona sono abbastanza incerte e bisogna proseguire con gli aiuti fiscali e soprattutto anche magari una politica monetaria abbastanza espansiva per i prossimi almeno due anni invece ecco possiamo dire che la Garda ha affrontato l'argomento dei rendimenti ovviamente del mercato obbligazionario europeo l'ha affrontato in una maniera anche molto chiara bisogna dirlo hanno detto ha detto che stanno tenendo sotto occhio i rendimenti quale secondo te la differenza nel comunicare in questo caso sotto questo punto di vista tra la Garda e Powell e per te come operatore di mercato sono stati chiari sei soddisfatto con tutto ciò che senti? c'è un attimino diversi che però si sposano abbastanza bene la Garda l'abbiamo commentato in occasione dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea avevamo detto che la sua comunicazione è stata molto efficace in quell'occasione proprio perché andava diciamo ad avere un atteggiamento cauto ma possibilista in una condizione di mercato e scusate scusatemi in una condizione di scenario macroeconomico che non era così ben definito come quello americano ovvero l'economia europea in generale non è diciamo ancora fuori dalla crisi ci sono situazioni particolarmente complesse in alcuni casi che diciamo impediscono di vedere ancora per il momento una situazione rosea da un certo punto di vista questo argina un pochettino quello che è l'andamento sui tassi in Europa ma che cosa succede diciamo in maniera abbastanza parallela che la lagarda ha ancora effettivamente spazio per operare per andare a diciamo ad intervenire sulla massa monetaria sappiamo che ci sono altre operazioni diciamo all'interno del programma Tlta Raw che possono fare che tutto sommato andranno e potrebbero andare a moderare diciamo un possibile rialzo di tassi in Europa per effetto diciamo del contagio da parte degli Stati Uniti per cui prego no quindi giusto giusto per capire questa ultimissima domanda prima di andare in pausa obbligitaria rimarrà questa discrepanza tra gli Stati Uniti e l'Europa a livello sia di mercati ma anche di economia reale vista anche la campagna vaccinale che è il punto clou a questo punto in America sulla campagna vaccinale sono molto più avanti di noi noi abbiamo una situazione economica in generale macroeconomica non rosea diciamo per quanto possiamo azzardarci a dire una cosa del genere nel contesto attuale rispetto agli Stati Uniti la lagarde è stata più possibilista quindi diciamo che dal punto di vista dell'emissione di ulteriori massi monetari potrebbe anche andare ad arginare senza troppi problemi la curva lo vediamo anche dall'andamento degli indici in questo momento gli indici europei sono tutti in positivo quegli americani sono contrastati e questo perché in Europa ci si aspetta che l'accomodamento monetario prosegua ulteriormente rispetto allo status quo mentre negli Stati Uniti i mercati cominciano ad avere qualche dubbio quantomeno beh sì assolutamente il DAX ha aggiornato ecco i nuovi massimi in questo momento in rialzo dello 0,77% sulla fronte del dollaro cosa possiamo aspettarci un rafforzamento o meno intendo un rafforzamento un po' più sostanziale ecco allora grossi crolli dell'euro dollaro non me li aspetto abbiamo visto rispetto all'andamento beh parliamo dell'euro dollaro ieri prima della riunione di politica monetaria rimammo in area 1,19 siamo arrivati a 1,19 80 oggi il movimento è stato completamente negato io mi aspetto di rimanere in area 1,19 1,18 che secondo me è il suo valore nell'attuale contesto di mercato quindi stante quelle che sono le condizioni attuali per cui tendenzialmente lo vedo abbastanza equilibrato il cambio su questi livelli forse possiamo scendere possiamo scendere un altro po' ma per il momento il dollaro è prezzato correttamente che poi prospetticamente ci sia un rafforzamento del biglietto verde questo è abbastanza scontato rispetto all'Europa proprio perché le dinamiche macroeconomiche monetarie negli Stati Uniti sono già più definite di quelle in Europa però sono tutte cose che bisogna vedere perché sono passibili di revisioni anche abbastanza marcate grazie mille grazie mille ad Emanuele Rigo New Trader Lab grazie per essere stato con noi e buon proseguimento grazie a tutti